Sfigurata da un colpo di pistola allo zigomo ma per fortuna non in pericolo di vita, è accaduto la scorsa notte sulla strada Colle San Donato alla periferia sud-ovest di Pescara, dove la squadra mobile ha trovato una giovane prostituta nigeriana completamente nuda e sanguinante al volto. La giovane di soli 23 anni è stata rapinata da un uomo che l'ha caricata a bordo della sua utilitaria sul lungomare di Montesilvano. La ragazza, che aveva con sé solo 80 euro, è stata costretta dall'uomo a spogliarsi e a consegnare i soldi sotto la minaccia di una pistola. Nella colluttazione è partito un colpo accidentale che ha colpito la giovane al volto facendole perdere un dito della mano alzata nel tentativo di difendersi. Non è ancora chiaro se i due si conoscessero del perché l'uomo abbia rischiato un omicidio per pochi euro. La polizia sta vagliando tutte le ipotesi, anche se la più probabile resta quella di una rapina finita male. Una vicenda che conferma la diffusa e allarmante disponibilità di armi sul nostro territorio.